Musica Martedì 15 di luglio, buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione nell'edizione mattutina della rassegna stampa. Come sempre vediamo quali sono le principali notizie di oggi partendo dai maggiori quotidiani nazionali per poi andare a vedere tutti gli approfondimenti dal web ma anche tante notizie sulla capitale e sulla provincia e comuni limitrofi. C'è tanta politica oggi sui giornali con il Movimento 5 Stelle e il Premier Renzi ma c'è anche tanto e tanto altro ancora come il caso di Maroni e l'avviso di garanzia che ha ricevuto e il ciclismo con questa maglia gialla che ritorna. E vediamo allora, iniziamo proprio dalla Repubblica con questo titolo Renzi ai 5 Stelle sull'immunità pronti a cambiare così riportato il virgolettato del Presidente del Consiglio con la lettera a Grillo sul Senato domani i primi voti in aula e poi ancora ecco il testo sulle responsabilità dei magistrati e per i cittadini cause più facili dubbi sull'ANM e l'Associazione Nazionale Magistrati. Andando avanti, se uno su dieci diventa povero l'analisi fatta dalla Repubblica dopo i dati che sono stati resi noti ieri dall'Istat, l'Istituto che ha appunto fornito questo quadro piuttosto sconfortante in cui su dieci italiani uno diventa povero con appunto questa pubblicazione di ieri scrive la Repubblica da parte dell'Istat dei dati sulla povertà nel 2013, cominciamo ad avere un quadro abbastanza completo di cosa è successo alla distribuzione dei redditi in Italia in questa interminabile crisi. Bene chiarire subito che è stato uno shock senza precedenti nella storia repubblicana così appunto Tito Boeri sulla prima pagina della Repubblica con poi il seguito di questo articolo all'interno c'è poi sempre sulla prima pagina per quanto riguarda l'economia Mario Draghi che avverte le regole dell'Unione Europea sono già flessibili ed inoltre si parla anche, vi dicevo in apertura, del caso dell'Expo con l'avviso di garanzia ricevuto dal governatore della Lombardia Roberto Maroni avrebbe, secondo quanto emerso, avrebbe favorito il contratto di due collaboratrici il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni è indagato per presunte irregolarità relative a contratti legati all'Expo la procura di Busto Arsizio lo accusa di aver fatto pressioni per poter ottenere l'assunzione da parte di alcune aziende e di un paio di conoscenti questo appunto quanto si presume abbia fatto il governatore della Lombardia Nibali, il sogno del tour, 16 anni dopo il ben noto Marco Pantani il tour ha molte facce e la faccia solare Nibali che stacca tutti e vince col pollice in bocca la seconda vittoria dedicata a Emma, la sua bimba la seconda è nera, nerissima per Alberto Contadora alle 15.57 a una settantina di chilometri dall'arrivo è costretto al ritiro è caduto lungo la discesa mentre il gruppo viaggiava sui 70 chilometri orari, questa è la foto che ritrae proprio Nibali e Vincenzo Nibali che ha vinto ieri la decima tappa del Tour de France andando avanti la campionessa della destra che vuol comprare l'unità Sant'Anche che vuole comprare l'unità è un po' come se il comandante Marcos debuttasse come broker a Wall Street sono gli scherzi del post ideologico che per quanto post ancora non era riuscito a scardinarle proprio tutte le coordinate del vecchio panorama politico e sentimentale del pianeta Terra torna a galla la Concordia ma è scontro sulle vittime poi vedremo anche gli approfondimenti sul web e Preiti, perdonatemi quel giorno sparai a Palazzo Chigi perché senza lavoro dice che è pentito ma non si può tornare indietro dice che oggi la gente è più disperata di quando ha sparato se finisci sull'astrico e perdi anche gli affetti puoi arrivare a compiere gesti estremi parla per la prima volta in un'intervista con Repubblica Luigi Preiti il pistolero di Palazzo Chigi che sicuramente tutti ricorderete andiamo avanti ci spostiamo sul Corriere della Sera vediamo qui il titolo principale è dedicato alla BC e non anacquate le regole il presidente l'euro troppo forte la mia uscita voi voci infondate e cresce intanto il debito italiano questa è la linea di Draghi le riforme contano più della flessibilità che tanto viene richiesta e le regole di bilancio non vanno anacquate con troppa flessibilità per la crescita servono riforme strutturali così Mario Draghi secondo cui l'euro forte danneggia la ripresa il presidente della Banca Centrale definisce poi infondate le voci di una sua uscita il debito italiano a 2.166 miliardi e è cresciuto ancora e andando avanti troviamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera in taglio centrale la fotonotizia che riguarda il ciclista Anibali che vince e torna a maglia gialla al Tour de France con il ditto in bocca taglia il traguardo proprio in onore di sua figlia Emma grande impresa di Vincenzo Anibali che vincendo la decima tappa del Tour de France si riprende la maglia gialla presa il giorno prima il siciliano è giunto da solo al traguardo di Planchi de Belfi dopo aver scalato la salita forse più dura della corsa Anibali ha preso il largo nel tratto finale ha raggiunto e superato lo spagnolo Rodriguez sul traguardo e ha esultato con il pollice in bocca per salutare la figlia Emma più tardi ha detto mi seguo in tv da casa il successo dell'italiano arriva nel giorno dell'abbandono di Alberto Contador vittima di una brutta caduta che gli ha causato la rottura della tibia il ritiro dello spagnolo segue quelle di altri protagonisti come Cavendish Fromm e Schleck questo il punto della situazione per quanto riguarda il Tour de France di quest'anno e poi c'è Israele e Gaza ancora la situazione tesissima con anche le pressioni da parte degli Stati Uniti e l'Egitto che propone un cessate il fuoco si fa a strada una proposta egiziana per questo cessate il fuoco a Gaza e fermare così i bombardamenti il segretario di Stato americano John Kerry è arrivato al Cairo per appoggiare la soluzione i nodi della trattativa sono l'embargo e prigionieri le pressioni degli Stati Uniti per la tregua e l'evidenza che solo l'Egitto può cercare di mediare avrebbe spinto il presidente al Sisi a intervenire la proposta prevede lo stop a partire dalle 9 di oggi vale a dire le 8 in Italia Kerry potrebbe ripartire dal Cairo con le condizioni poste da Hamas per mantenere la tregua se dovesse entrare in vigore e bloccare i lanci di missili contro le città israeliane e da Israele e Gaza ritorniamo in Italia con Renzi che scrive al Movimento 5 Stelle incontriamoci su Senato ed Itali come la legge elettorale da approvare entro il 2014 riforma costituzionale nel 2015 lo scrive il premier Renzi ai parlamentari del Movimento 5 Stelle che il partito democratico incontrerà di nuovo giovedì o venerdì sempre giovedì inizieranno a Palazzo Madama le votazioni sulla riforma del Senato che approdata ieri in aula è stata subissata dagli emendamenti ma gli stessi frondisti del partito democratico ammettono che la riforma passerà questo quanto assicurato una nuova scoperta tra chi si frequenta esiste spesso una vicinanza genetica il DNA delle persone amiche tende a somigliarsi lo dice una ricerca che ha effettuato analisi su un milione e mezzo di persone sappiamo da tempo che una coppia condivide il grado di cultura e di intelligenza se ora ci viene detto che anche gli amici mostrano una somiglianza genetica non bisogna quindi sorprendersi essere amici vuol dire parlarsi condividere interessi e passione gli amici si scelgono reciprocamente anche se la vita può portare a disillusioni quindi una vicinanza genetica non solo tra chi tra i componenti di una coppia ma anche tra gli amici la Concordia ora galleggia i primi 30 metri ed è pronta al viaggio l'operazione per portare la nave a Genova dove verrà smantellata lo abbiamo visto a partire da ieri vedremo adesso a che punto è la situazione e intanto ci spostiamo sul messaggero che apre con una notizia differente dagli altri quotidiani sale il debito e Draghi comunica che è necessario procedere il prima possibile con le riforme a maggio poi un nuovo record a quota 2.166 miliardi a rischio gli obiettivi del governo per il 2014 il presidente della BCE lo abbiamo visto ha dichiarato la flessibilità non è l'unica via Renzi invece ha detto la crescita senza aumento delle tasse è quello che serve al nostro paese un nuovo record per il debito pubblico a quota 2.166 miliardi di euro sono a rischio gli obiettivi del governo per il 2014 il presidente della BCE Mario Draghi chiede subito le riforme spiegando che la flessibilità non è l'unica via da percorrere Renzi assicura non aumenterò le tasse la crescita verrà solo con le riforme secondo l'ultima rivelazione di Banca Italia lo stock di indebitamento è cresciuto di 20 miliardi e Palazzo Coca ha spiegato che l'incremento riflette per 5,5 miliardi il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche questa l'apertura scelta dal messaggero noi però adesso ci fermiamo un istante per una piccola pausa torniamo tra poco con le altre notizie dalla prima pagina del messaggero gli altri quotidiani e poi il web a tra poco grazie grazie grazie